Ciao e benvenuti a un nuovo video. Allora sapete che non amo chiedere like visualizzazioni e altro ma mi merito le visualizzazioni solo per il fatto che sono qui a registrare il video con queste temperature. Non so se ce la posso fare. Sono già a metà polase quindi vedete voi come posso essere messa ma i beauty box di luglio. E' arrivata adesso e io ve la mostro adesso. Intanto stiamo molto insieme a estivo. Andiamo ad aprire assieme. Ok vitamin sia. Eccola qui. Dentro c'è lo spoiler e noi non ce lo spoileriamo e andiamo ad aprirla. Intanto vi ricordo che questa box con l'abbonamento annuale ha un prezzo di 15 euro a box. Aumenta il prezzo in base se fate abbonamento semestrale, semestrale, quello annuale, quello che è conveniente. E avete il 10% di sconto sulla prima box col mio codice. E mentre l'ho aperta. Eccoci qui. Allora io direi di andare prima di tutto a togliere questo che credo che sia quello che fa che è un'attività. Sessore e peso. Esatto. Che carina. Molto trasparente. E' un sacca da mare. Un sacca impermeabile. L'ocqui. Tiene fino a 15 kg. Ok. E' carina. Grandina ed è va bene anche per i filmi bagnati. Oppure per i solari. Per avere tutta portata di mano. Intanto questa la mettiamo qua perché sono un amaggio. Ecco. Andiamo a vedere la box. Vediamo. Un, due, tre, quattro, cinque. Ok. Eccola qua. Allora. Visto che sta uscendo io partirei con questo. Che è Australian Gold Liquid Assets 28esima dimensione bronzer con champagne e caviale. Ah però. Single use 15 ml. E' un bronzer. E' un bronzer. Indoor outdoor champagne. E' un auto abbronzante. Ok. C'è un abbronzante dark. Beh se mi diamo poca non lo so. Il mio colore è questo e resta questo. Allora. Stavo cercando il prezzo. Intanto. Ok. Questo è il travel. Ed è vale questo qui. Quattro euro. Partiamo così. Poi andiamo avanti. Continuiamo con le bustine. Eccola qua. Puro bio. Credo di averla già vista. Per i capelli. For air. Sui. Maschera. Capelli. Settificante. Con vaniglia e caramello. 40 ml. Quindi questo è un full size. Mi piace perché hanno questa pink e si può richiudere. Quindi è per più dosi. Dolcezza della vaniglia e caramello per capelli super luminosi e morbidi. Come lo siete. Do una grande morbidezza. E aiuta a ripristinare la struttura del capello. Ok. Difende i capelli dallo stress di soli styling e trattamenti. Ok. Allora. Questo ha un valore di 4,50 euro. Ok. Vaniglia e caramello. Sono a cosa di provarla. Puoi comunque piccoli in là. Di sentire comoda anche da viaggio. Ed è una maschera per i capelli. Andiamo avanti. Devo capire cosa è questo. Quindi lo guardiamo adesso. Saugella. Intimo al corpo e detergente delicato per l'intimo al corpo. Pizza match. Detersione e protezione sotto la roccia con sistema prebiotico. Ok. Possessore curiosa. Ah. È un intimo che va bene anche se sia sotto il detergente intimo tra l'igiene intimo e corpo. Dice intimo e corpo. Detersione dell'intimo e corpo sotto la roccia. Per tutti e due. Ok. Lo proviamo. È un 200 ml. Quindi è un full spice. E questo ha 5,90 euro. Sono curioso di sentire il profumo se ce l'ha. È fresco. Ok. Curiosa di provarlo. Andiamo avanti. Uno o due. Questo. Sempre puro bio. Balmy. Cacolac Lip Balm. È un balsamo labbra al cocco. Io amo i balsamo labbra. Poi questi possono davvero molto comodi. Immagino che sia quello classico. Esatto. Con l'applicatore. È un full size. Devo sentirlo. Mi sfuma un po' di cocco. Ed ha un valore di 5,90 euro. Ok. Curiosa. Mi piace di bascare l'altra. Quindi sono felice. E veniamo con l'ultimo prodotto. Che è questo. Marchio che conosco ma non conosco il prodotto. Bava Cosmetics. È stato un periodo che è un po' più sedente. Per favore. Dimmi. Eh. Un attimo. E' buonino un pochino. Se vuoi la pazzina un po' ce l'ho qui. È tutto normale. Dovete sapere che questa qui e un'altra hanno fatto il midino. I midi come li fanno loro non li fa nessuna. Cioè proprio da sotto li si vengono le zampe davanti a 4 ore a metto intrecciate. Hanno fatto il mido. Hanno fatto le uova. E ora che si sono schiuse le uova mi hanno portato l'uovo rotto. Ragazzi me lo sono trovata lì. Cioè non è possibile che sia arrivato col vento o altro. Me l'hanno portato davanti alla porta. La serie. Ok sono nati. Dacci la pappa. Adesso che dobbiamo nutrirli. Siamo a questi livelli. Allora. Tornando a Barò Cosmetics. Perché è stato un periodo che Barò lo si vedeva ovunque. Credo. Perché ti davano la promozione. 50 euro di sconto con un acquisto. Non lo so. È stato un periodo che si vedeva ovunque. Allora. Questo è il concentrato di polifenoli. Sì. Il strato dell'uva bio coltivata a Barolo. Per un effetto pro-age rigenerante. Intensificatore di bellezza rigenerante ad altissima concentrazione. Applicare 5 gocce di concentrato sul framo della mano e poi sul viso evitando gli occhi. Pradotto senza alcol. Ok. Quindi un cero. Composizione glicerina. Vitis litera. Contextrato profumo. Bene. Oltre tutto c'è 20 euro in omaggio per te. Sono spese minima di 40. Io ve lo metto. Qui vedete voi. Va di Barò. Inserisci il codice mybeauty24 fino al 31 agosto. Se fate in tempo e vi interessa 20 euro sono spese di 40. Andiamo a vedere il siero. Eccolo qui. Piccino. È un 20 ml però in full size. E ha un valore di 38 euro. Ok. Ci può piacere. Non lo apro adesso. Perché comunque sia lo uso più verso l'autunno. Adesso in solviso ragazzi non metto nulla. Cioè non ce la faccio. Non ce la faccio. Non ce la faccio. E quindi andiamo a vedere il valore totale della box che abbiamo trovato. Allora il siero per il viso di Barò. Poi abbiamo Il basamo labbra di Purubio. Il lato abbronzante di Australian Gold. La maschera per i capelli di sempre Purubio. E per finire il saugello intimo e corpo dell'energente. Tutto questo che avrebbe con la box un costo di 15 euro ha un valore più o meno di 58. Questo mi sembra una bella box. Ah scusate non dimostiamo che c'era anche la borsa. Questa. Faccio davanti perché è bella grande. E' stata una bella borsa per la spiaggia, per il mare, per quello che volete. Io per trasportare tutto dentro non la metterò in troppo qua dentro. Sì ok è una bella borsina. E niente spero di esservi stata utile. Fatevi capire voi che cosa ne pensate se non arrivate le zanzane. Buonissimo. Io spero di essere utile. Ed avete avuto un pochino di compagnia. Ed magari se non avete niente da fare su vostro attimativatore, beate voi. Ed è niente. Vi d'appuntamento al prossimo video. Scusate se in questo periodo sono un po' assente. Ma pochi prodotti, pochi video. Tranne le box, poca roba. Perché stiamo pensando a guardare per i calendari dell'avvento. Ve ne ho parlato così tanto. E come minimo non ve ne mostro allora anche uno. Al prossimo video. Ciao. 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 Ciao.